Adesso sta sorriscaldandosi in Braglia, temperatura ai massimi livelli, il Sassuolo vicinissimo davvero alla prima promozione in 91 anni di storia. Non si può battere, Pomini non ce la fa a diventare il pallone in gioco perché sta piovendo di tutto dalla curva degli volresi, soprattutto tante voltiglie piene. E Pomini chiaramente sta dicendo all'arbitro di non essere tranquillo, di non essere al sicuro, siamo oltre i 5 di recupero, Moschinelli chiaramente adesso dovrà concedere un extra recupero. Pomini è pronto a parte di calcio di punizione, batte più lontano che può, ha già guardato da Moschinelli, Magnanelli recupera, per dentro per Missirani, 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 Missirani! Missirani è il gol della Sera, il Sassuolo ora in Sera! Missirani, lo avevamo detto anche nel prepartita, un giocatore che per esperienza e personalità doveva farire questo match, ed è arrivato l'ultimo secondo, onore a dare questo grande riguardo, ma il Sassuolo è il Sera! 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 Sera!